Villa Donia si dimette l'assessore Silvio Baronchelli, la prima cittadina Bellini, nomina in giunta un assessore esterno, Giorgio Franchina. È un'agonia mediatica che crea dubbio e irrequietezza e che non fa bene all'ospedale. È il commento del Presidente della Comunità Montana, Vare di Scalve, guido giudici sulla situazione dell'ospedale di Piario. Acclusone la prima serata del ciclo di due incontri sul caso dei fucilieri di Marina, La Torre e Girone, con l'amiraglio Fabio Caffio, il quadro internazionale dell'intricata vicenda. Buonasera e ben ritrovati con il telegiornale di Antenna 2. Due scippatori, un uomo e una donna conviventi, sono stati arrestati ieri all'overe. I due, originari del milanese e da poco domiciliati a Endine, prendevano di mira le loro vittime in via Vittorio Veneto. L'uomo, un 34enne, attendeva i malcapitati in cima alla salita, si avvicinava, strappava la borsa o il marsupio e correva in via Paglia, dove l'attendeva la compagna, una quarantenne, la quale consegnava la rifurtiva. I due si allontanavano, poi facendo perdere le loro tracce. Sabato hanno sottratto 120 euro da una sessantenne, l'uni di 100 euro da una pensionata, mentre ieri mattina qualche spicciolo e un cellulare a un uomo di 55 anni. I carabinieri e gli agenti dalla polizia locale, grazie alle testimonianze e alle immagini di videosorveglianza, ieri sono riusciti a rintracciarli e ad arrestarli. Un 58enne di Ardesio, già noto le forze dell'ordine per furti e reati contro il patrimonio, è stato arrestato ieri dai carabinieri della stazione dell'Alta Valle per alcuni furti messi a segno agli spiazzi di Gromo. I fatti avevano creato una certa preoccupazione, tanto che l'altra notte è stato organizzato un servizio di sorveglianza con militari in borghese. Dopo aver notato una opelastra sospetta, i carabinieri hanno accertato che quattro case della zona erano state prese di mira. Subito hanno diramato l'allarme per cercare di rintracciare l'automobile. Poco dopo i colleghi l'hanno individuata mentre si stava fermando in un parcheggio nel centro di Ardesio. Sull'auto è stata trovata l'aria furtiva dei furti compiuti nella notte, è stata perquisita anche l'abitazione dove è stato trovato altro materiale probabilmente di provenienza furtiva. E cambiamo argomento a Villadogna, dopo Silvio Dorati che aveva lasciato nell'estate del 2014, si dimette anche l'assessore Silvio Baronchelli. La prima cittadina, Angela Bellini, ha nominato un assessore esterno, Giorgio Franchina. C'è stato un cambio in giunta a Villadogna, che cosa è successo? Pochi giorni fa l'assessore Baronchelli Silvio con le deleghe al bilancio ha rassegnato le proprie dimissioni per motivi personali, pressato un po' da impegni di lavoro e perché non poteva dedicarsi comunque fondamentalmente a quello che era la gestione, considerato anche che secondo lui c'erano un po' delle lentezze all'interno e non riesce a confrontarsi con tutto l'apparato burocratico. Sicuramente può essere una realtà perché a volte non tutti i problemi possono essere risolti nell'immediatezza. Ha fatto comunque un gran lavoro, io per questo colgo l'occasione per ringraziarlo perché comunque è sempre stato molto interessato a gestire e portare avanti quello che sono il bilancio del comune di Villadogna in questi due anni e mezzo e di conseguenza è stata una figura importante nella scelta anche appunto della candidatura della mia lista. Io per questo lo ringrazio pubblicamente, ringrazio per tutto il lavoro che ha fatto, per l'appoggio che ci ha dato. Evidentemente la sua scelta di assessore ha seguito anche le dimissioni da consigliere comunale, per questo motivo con il prossimo consiglio comunale andremo a surrogare le sue dimissioni con l'ultimo dei non eletti, che è la signora Sonia Cagninelli, per cui nel prossimo consiglio comunale la faremo entrare ufficialmente anche lei all'interno del consiglio. L'occasione di questa situazione mi ha portato comunque a fare una scelta diversa per quanto riguardano le deleghe e ho trovato un giovane ingegnere di Villadogna che si chiama Giorgio Franchina, al quale ho consegnato le deleghe di assessore all'urbanistica e lavori pubblici. È una figura importante in questo momento a Villadogna perché stiamo ancora valutando il discorso della variante, ci stiamo lavorando, facciamo in continuazione degli incontri, stiamo prendendo delle decisioni che sono sicuramente fondamentali per il comune di Villadogna, quindi la presenza di una figura professionalmente preparata sicuramente mi aiuterà a trovare, insieme al gruppo di lavoro urbanistica, delle soluzioni per quanto riguarda la zona industriale, così come ci eravamo detti, che è stata una nota scelta politica. Quindi le deleghe che erano in capo all'assessore Baron Kelly Silvio tornano nelle mani del sindaco il quale gestirà appunto la gestione del bilancio e niente, come amministrazione sicuramente nei prossimi mesi troveremo modo di presentare le nostre idee per quanto riguarda la variante al PGT perché vorremmo rilanciare il paese di Villadogna e trovare modo di incentivare la possibilità di portare del lavoro a Villadogna. Sempre nell'argomento dell'ambito del lavoro posso dire con gioia che il comune Villadogna è stato scelto da Promoserio come sede del quinto workshop dell'area Industri di Promoserio che avverrà sabato 30 aprile e per questo ringrazio appunto la direzione di Promoserio per aver scelto il mio comune. La sede della Proloco di Ardesio sarà dedicata a Danilo Fornoni. La delibera è stata approvata durante la seduta di ieri sera del Consiglio Comunale. Il passaggio in aula si è reso necessario perché la stanza si trova all'interno del Palazzo del Comune. Una pura formalità che però toglie ogni ostacolo all'intitolazione. È già stata anche fissata la data per la cerimonia, sabato 9 aprile. Danilo si è spento prima di Natale a soli 18 anni. Era un volontario della Proloco e nella stanza che porterà il suo nome ha trascorso parecchie ore a servizio della comunità di Ardesio. È un'agonia mediatica che crea dubbio e riquetezza e che non fa bene all'ospedale. È il commento del Presidente della Comunità Montana di Scalve e Guido Giudici sulla situazione dell'ospedale di Piario. Siamo al telefono con il Dottor Guido Giudici, ex direttore sanitario della struttura ospedaliera di Crusone, poi trasferitesi a Piario e Presidente della Comunità Montana di Valle di Scalve. Qual è un po' il suo commento su quanto sta accadendo all'ospedale di Piario? Un po' di problemi, non piccoli, in realtà sono piccoli, ma poi la possibilità mediatica rende poi anche le cose piccole grandi, quindi resta un po'. Ma va precisata una cosa che chiaramente è uno stato di sofferenza, perché chi lavora sotto tiro, sotto osservazione, sotto critica non lavora con tranquillità. i pazienti si sentono un attimino in dubbio, si sentono mi devo fidare, non mi devo fidare, quindi si trova a lavorare in una maniera un po' esasperata. Va detto che però, nonostante tutte le campagne un po' denigratorie, qualche volta montate, perché secondo me ogni tanto forse un po' di attenzione alle conseguenze mediatiche che ci sono solo popolazioni andrebbero fatte, le considerazioni stanno a indicare che se noi andiamo poi a esaminare quelli che sono i numeri dell'affluenza, i servizi, i reparti dello spadale di Piario non ha subito nessuna riduzione, quindi è più un qualcosa che al di fuori rischia di compromettere una corretta gestione, ma poi in sostanza non va a modificare molto. Tenuto conto che questo è un periodo però in cui con il nuovo assetto regionale per quanto riguarda la sanità è importante portare a casa quelli che sono il completamento e la sicurezza degli ospedali, quindi anche del nostro ospedale che era stato poi difeso anche come ospedale di montagna perché doveva garantire l'emergenza, le tre emergenze che sono essenzialmente quella ginecologica, quindi ostetrica nel senso dei parti, quella ortopedica e quella cardiologica, cioè l'ospedale dovrebbe essere potenziato in tutte queste branche per far sì che rispondere all'immediatezza dell'urgenza, per poi collocare in una posizione di tranquillità il paziente e eventualmente qualora necessiti di essere trasferito in reparti o servizi che hanno competenza maggiore, quindi ad esempio interventi di stand cardiologici, interventi di pesmica d'urgenza, interventi particolari su neonati a rischio e devono essere stabilizzati e poi trasferiti in ospedali di competenza, deve essere creata la rete, insomma e quindi però la rete in partenza deve dare garanzia. Alcune cose si stiamo battagliando per ottenerle, noi contiamo di ottenerle perché la base, la funzionalità dei nostri ospedali e la finalità è questa, cioè garantire tutto, ma non tutto nel senso anche gli interventi di caso di chirurgia, tutta l'emergenza. Quindi uno si deve, sa che se va lì, se la risposta è possibile viene data, se non è possibile viene stabilizzato e trasferito dove può essere data in modo migliore, in maniera che il cittadino ha tutta la garanzia e la tranquillità è questo di giorni e di nozze, ecco perché poi in Val di Scala abbiamo attivato anche le piazzole con atterraggio del collo notturno, perché se uno prende un infarto qui in Val di Scala, se ci sono dei grossi problemi a rischio su grossi traumi, incidenti notturni, se ci sono grossi problematiche su un travaglio di parto, magari in tentativi, sai che adesso poi l'abitudine, la voglia di fare i partiti a casa succede anche, quindi la possibilità di essere trasferiti d'urgenza con gli elicotteri in dove è possibile rimediare queste emergenze. Io direi che questa un po' gogna mediatica va un po' a instaurare un po' di quelle recretezze, quel dubbio che non fa bene all'ospedale e che qualche volta a mio modo di vedere è stata un po' esasperata, anche perché tutte le notizie che escono non possono essere poi controbattute nella realtà, perché andremo a violare la privacy, perché qualora uno dica sono stato trattato male per questo, questo e questo, dare a smentirlo perché la patologia è in pubblico, non si può, quindi dal punto di vista crea un po' di difficoltà anche nella risposta. E c'è commozione a Gandino per la morte di Suor Maria Edvige Tomasini. Si è spetta l'altra notte Suor Maria Edvige Tomasini, aveva 75 anni ed era originaria di Gandino. Nata nel 1940, era entrata nell'Istituto delle Suore Orsoline nel 61 e mettendo la professione perpetua nel 1970. È stata insegnante di scuola materna nella nostra zona ad Albino e a Parre. Nel 2003 si era trasferita a Mirandola in provincia di Modena, dove guidava la comunità di religiose di cui faceva parte anche un'altra gandinese, Suoro Liberia Franchina. Nel 2013 era rientrata in Bergamasca in seguito al manifestarsi di una malattia che l'ha poi portata alla morte. Nell'estate del 2014 era stata festeggiata a Gandino per il cinquantesimo di professione religiosa. La salva è composta presso la casa madre delle Orsoline di Gandino, dove stasera alle 20 è in programma una veglia di preghiera. I funerali saranno celebrati domattina alle 10 in Basilica. Dopo il successo della prima edizione della protezione civile di Clusone promuove la seconda edizione del corso base di educazione cinofila. Avete organizzato questo corso base di educazione cinofila, ce ne puoi parlare? Beh, è la seconda edizione di questo corso, lo avevamo fatto come prima edizione proprio l'anno scorso. Abbiamo riscosso successo in quello che fu la prima edizione, abbiamo deciso di riproporlo quest'anno e devo dire che dalla data di pubblicazione delle locandine e dei manifesti abbiamo avuto già un buon riscontro. Riscontro che ci porterà molto probabilmente a ripresentare in calendario un secondo appuntamento. Il corso di fatto è un momento formativo rivolto a tutti, a tutti coloro che sono possessori di cani e vogliono cercare di avere una maggiore competenza o meglio una maggiore conoscenza su come poter gestire il proprio amico a quattro zampe in contesti di vita quotidiana, domestica o comunque cercare di controllare con un minimo di educazione alla cinofilia. Quindi un'attività formativa legata al controllo del cane e alla conoscenza dei problemi che questo ha, quindi anche da un punto di vista comportamentale, una prevenzione di quelli che possono essere le azioni di disturbo per l'animale e quindi prevenirle con una serie di conoscenze che il conduttore quindi deve cercare di applicare. un corso aperto a tutti dicevamo con cani che non hanno particolari problemi, comunque sia in fase di iscrizione sottoporremo un questionario a chi vuole, ha intenzione di frequentare questo corso dove richiederemo le maggiori informazioni sul loro cane e sugli obiettivi che intende raggiungere il conduttore, in modo tale da poter impostare il liter didattico formativo nel modo più personalizzato possibile. Completiamo la presentazione con un po' di coordinate. Beh, allora il corso avrà luogo presso il campo sportivo di Cerete Basso, quasi sicuramente la prima parte del corso verrà fatta proprio lì, la seconda parte invece si prolungherà presso il nostro campo addestramento di Cerete Basso in via Faccanoni. Questo perché attualmente siamo in fase di lavori di ristrutturazione dell'area campo e quindi non riusciamo nel breve periodo a soddisfare la possibilità di eseguire le attività formative in questa location. Quindi presso il campo sportivo Cerete Basso, grazie alla collaborazione dell'Unione Sportiva Cerete Basso e il Comune di Cerete. Il corso incomincerà a cavallo tra la prima e la seconda settimana di marzo, avrà appuntamento ogni mercoledì di ogni settimana dalle 19 alle 20. 8 appuntamenti, oltre a questi 8 appuntamenti ci sarà anche un incontro con un veterinario operante sul comprensorio dell'alto piano, dove ci saranno anche lezioni sul pronto soccorso veterinario e le manovre di soccorso principali per il nostro amico a quattro zampe. Ci fermiamo per una breve interruzione, tra poco. Rieccoci in onda con il telegiornale di Antenna 2. Il Senato ha approvato una legge che introduce novità sia per le coppie omosessuali sia per le coppie eterosessuali. Unione civile per le prime e un quadro di riferimento per le convivenze nel secondo caso. Ecco un commento del senatore della Lega Nord, nonziante consigli. Sono state settimane impegnative che hanno catalizzato anche l'attenzione mediatica, soprattutto un po' per quanto riguarda le unioni civili. Sì, in questi ultimi due mesi, perché poi c'è un lavoro che riguarda le commissioni, in questi ultimi due mesi e in particolare le ultime due settimane abbiamo fatto un lavoro enorme per quanto riguarda questo DDL Cirinna che riguarda le unioni civili, le adozioni gay e tutta una questione legata intorno a un mondo che sicuramente aveva bisogno di essere rivisto per quanto riguarda tutte le normative, però che ci è sembrato ad avere delle forzature enormi, tanto è vero che siamo arrivati a una votazione con una fiducia su una problematica molto seria, su cui Renzi si è preso una responsabilità enorme e su cui una maggioranza a geometria variabile con i verdiniani ha dato ragione a Renzi. Noi come Lega abbiamo sostenuto per quanto riguardava il nostro impegno politico una rivisitazione di quelle che erano le capacità di mettere in condizioni alcuni soggetti di essere tutelati e quindi parliamo per quanto riguarda le questioni dei rapporti tra lesbiche e tra gay, ma ci siamo rifiutati di assolutamente affrontare quelle che erano la questione legata all'adozione dei figliastri tra omosessuali. Questa è una cosa che assolutamente poi è stata stracciata dalla legge e che ha messo in subbuglio praticamente tutti. È una legge che non ha accontentato nessuno, questo lo posso dire sinceramente. Per quanto riguarda la stabilità del governo, qual è il vostro giudizio? Il governo la maggioranza non ce l'ha, ce l'ha solamente se poi in base a ogni provvedimento ne trova una volta i 5 Stelle, una volta trova l'NCD, una volta trova i verdiniani che sono gli ultimi che sono comparsi al capezzale di Renzi e che probabilmente avranno anche qualche vantaggio sotto l'aspetto di qualche sedia nel futuro. L'unica forza politica all'interno del Senato è la Lega che è granitica e che tiene la sua posizione nel modo più assoluto. Quindi per il centrodestra? Il centrodestra se il riferimento è alle prossime elezioni comunali, nei comuni molto importanti piuttosto che alle prossime politiche che io spero arrivino il prima possibile, credo che si possa fare un bel lavoro. È chiaro che un ragionamento romano con NCD o con i verdiniani adesso è praticamente impossibile se non si limano e si smussano angoli che a questo momento sembrano piuttosto acuti. Nastrini gialli in vista, chi sul petto, chi nel cuore. Acclusone anche se città delle valli bergamasche. Ieri sera in tanti hanno voluto essere presenti al primo incontro del ciclo promosso dal Circolo Culturale Bradello e dall'Associazione Nazionale Marinai di Bergamo. ciclo dedicato ai due fucilieri di Marina, Massimiliano Latorre e Salvatore Girone. La vicenda dei due militari in servizio sulla petroliera Enrica Lexie, come nuclei militari di protezione, nave che il 15 febbraio del 2012 si trovava a largo delle coste dell'India, è stata presentata dall'ammiraglio Fabio Caffio. Innanzitutto, siamo noi italiani ad aver dimenticato un po' questi due fucilieri di Marina o è l'Italia ad aver dimenticati? No, assolutamente no. A tutti gli organi dello Stato, a cominciare dal Presidente della Repubblica attuale, come anche dal Presidente Napolitano, hanno più volte dichiarato la loro vicinanza alla Torre e ai Girone. Ugualmente gli italiani. Certo che il caso dopo quattro anni oramai è tempo di risolvere. Sono passato troppo tempo e la situazione di Capo Girone non è certo delle migliori perché continua a star lontano dall'Italia, continua a essere a avere limitazioni alla sua libertà personale. Si può dire tanto di questa vicenda, ci sono tantissimi aspetti di fatto, di diritto, di relazioni diplomatiche. Rifare ora la storia degli ultimi quattro anni non lo so, si potrà fare prima o poi, ma tutto sommato non serve. Adesso dobbiamo concentrarsi sui prossimi sviluppi che sono le udienze della Corte arbitrale che riunirà l'AIA, che è stata incaricata di risolvere il caso. In questo ambito l'Italia ha riproposto la questione delle misure cautelari, cioè far ritornare il Girone in Italia, mantenere la Torre in Italia in attesa che il caso si risolva. Quindi qualunque sia la decisione futura, intanto loro devono tornare. Questo è il minimo, è il minimo una volta che si è attivata una procedura internazionale. È il minimo che tuttavia l'India continua a rifiutare. I motivi sono tanti, sono, possiamo dire, tra virgolette nazionalistici, quello di continuare a sostenere delle proprie tesi ad oltranza. Anche in contrasto col diritto internazionale, perché qui il diritto internazionale centra soprattutto per quel che riguarda il principio di immunità, cioè mai probabilmente nella storia delle relazioni internazionali dei militari sono stati sottoposti a misure restrittive in tempo di pace, attenzione perché qui non si applica certo il diritto bellico, mai sono stati sottoposti a misure restrittive in uno Stato estero per fatti connessi al servizio. Cioè quando noi pensiamo alla Torre in Girone, dobbiamo pensare a due militari in divisa, che non hanno mai abbandonato la loro divisa, hanno continuato a indossarla sempre in questi quattro anni. Quindi loro rappresentano l'Italia, Girone attualmente a Nuova Delhi rappresenta l'Italia e quindi dietro di lui c'è tutto il paese, perché lui era in missione ufficiale, lui addempiva a degli ordini, aveva delle regole ben precise da rispettare. Quindi le ragioni dell'Italia sono queste, far valere la propria giurisdizione perché si tratta di militari che hanno commesso fatti accaduti in servizio. Certo, questo poteva essere fatto prima, si poteva fare tre anni fa, si poteva fare all'inizio della vicenda, ma questa è un'altra questione, un'altra questione che riguarda un po' le relazioni diplomatiche, il modo con cui il nostro paese si relaziona con gli altri paesi. Diciamo che l'Italia sarà sempre un paese moderato nelle relazioni internazionali. Devo dire tuttavia che a volte, e in questo caso lo dimostra, la moderazione non sempre paga. La seconda serata si terrà venerdì 4 marzo con il giornalista Tony Capuozzo. L'incontro sarà alle ore 20.45 in Sala Legrenzi, autore del libro Il Segreto dei Maroni. Nel tardo pomeriggio dello stesso giorno è prevista la presentazione presso la libreria Rasmussen di Clusone. E ora continuiamo con la rubrica Erbe e Salute a cura della dottoressa Antonella Agostini. Buonasera a tutti. Anche questa sera parliamo di allergie, ma più precisamente di allergie crociate. Il nome scientifico è Crox Reactivity, che sta a definire un'allergia crociata tra alimento e polline. In definitiva, per spiegarvi meglio, potrei dirvi che queste non sono delle vere e proprie allergie. Sono delle reazioni che si scatenano come conseguenza quando noi mangiamo alcuni determinati cibi nella stagione in cui ci sono i pollini a cui siamo allergici. Vi faccio un esempio semplice. Se io fossi allergica alle betulle e quando le betulle sono fiorite, quindi nel mese di marzo le betulle sono fiorite, io mangio un eccesso di frutta secca, potrei andare incontro a un'allergia crociata. Le allergie crociate si manifestano esclusivamente a livello orale e i sintomi solitamente sono gonfiore sulle labbra, prurito a livello del palato della lingua con gonfiore sulla lingua. A volte possono essere più accentuati questi sintomi portando a restringimento della glottide e senso di soffocamento. È molto importante per le persone che hanno delle allergie ai pollini tenere monitorato i cibi che mangiano durante il periodo della pollinosi perché non è che le allergie crociate valgono per tutti e sono uguali per tutti. Ogni persona può sviluppare delle allergie crociate particolari, quindi tenendo monitorato gli alimenti che mangiamo durante il periodo delle pollinosi siamo in grado di evitare problemi maggiori poi con effetti collaterali più gravi. Potete consultarvi col vostro medico, il vostro farmacista di fiducia portando magari gli allergeni a cui siete allergici, i pollini a cui siete allergici. Avendo in mano questo elenco sicuramente il vostro medico di fiducia è in grado di darvi una tabella di alimenti che potrebbero causare l'allergia crociata in modo da fare attenzione nel periodo della pollinosi. È sempre importante una buona prevenzione. Arrivederci e buona serata. Ci fermiamo per una breve interruzione tra poco. Rieccoci in onda con il telegiornale di Antena 2. Continuiamo con la programmazione televisiva. Questa sera alle 20 trasmetteremo preghiera in famiglia, cura dell'oratorio di Clusone, alle 25 griglie di partenza, alle 22 e 15 taglia economia, alle 22 e 30 la seconda edizione del nostro telegiornale, alle 23 e 15 decoder e alla mezzanotte e mezza la terza ed ultima edizione del nostro notiziario. Il telegiornale di Antena 2 tornerà in onda anche alle ore 21 e 30 sul canale numero 218. Alle 22 e 10 trasmetteremo target. Il servizio è dedicato all'inaugurazione del treno terapeutico alla casa di riposo di Gandino. Sul canale sportivo al numero 628, alle 20 e 30 trasmetteremo Antena 2 Sport, mentre alle 22 e 30 griglia di partenza. Nel Manacco sabato 27 febbraio il sole sorge alle 6 e 59 tramonta alle 18 e 7 minuti. La durata del giorno è di 11 ore 8 minuti. La luna sorge alle 22 e 49 tramonta alle 9 e 40 del giorno successivo. La fase lunare, la luna è calante ed è visibile al 69%. Ecco le previsioni del tempo. Il cielo sarà da molto nuvoloso, coperto con iniziali deboli precipitazioni in intensificazione dalla serata. Le precipitazioni saranno diffuse di carattere moderato, con nuovi apporti nevosi al di sopra degli 800 metri di quota. Le temperature in aumento le minime. E con questo è tutto. Noi vi ringraziamo per la vostra attenzione e vi auguriamo un buon proseguimento di serata. Grazie. Grazie.